è morto guarda oddio e benvenuti ragazzi c'è iflix che vi parla ed oggi siamo tornati in questo gioco che è bellissimo ok siamo tornati dove siamo boh non lo so oh stanno spondando chi è questo eh io ti scappo cosa vuoi ma anche iniziamo e già mi compare quello voi amici mi nascondo tanto quel bobo non se ne accorge vedete che scemo non se ne accorto eh non c'è nessuno qua sotto è inutile che cerchi guarda non c'è nessuno ecco te ne puoi andare ciao ciao mamma mia che sei bello ciao ciao è uscito? si avete visto ragazzi che è facile come driblarlo però se noi adesso usciamo quel bobo ci ammazza la mamma ecco guarda ora è qua dietro che ci aspetta e infatti e io mi nascondo sotto il letto eh scemo non si nasconde ecco bravo ce l'hai fatta aiuto che brutto dove sono finito madonna mamma mia che sei lento e ora muore guarda 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 come muore guardate morte sicura guardate ora ci nascondiamo qua sotto quello non se ne accorge appena arriva noi lo dribbliamo guardate qui il dribbling più bello nella storia di Outlast però tu devi venire se no non si può fare il dribbling eh va bene va quel bobo non ci viene ora ti tiro sto cavalluccio in testa guarda guarda mongoloide ah si si scampera scampera qua sto gioco di camperoni dovete a camperare stasi mamma mia che schifo c'è una benda qui prendiamola ce la mettiamo sempre nel braccio ti prendono va bene eccolo qua camperato uno due tre ciao no non c'è nessuno se ne è andato muoviti e di nuovo all'asta esci mamma mia velocissimi abbiamo dribblato forse si forse no forse di dietro boh non lo sappiamo ma l'importante è che facciamo il video per youtube ecco qua uno morto che schifo che schifezza totale ciao che bello ok abbiamo seminato a quello mongolo abbiamo finito il gioco no non finisce il gioco che può fare tieni premuto guardato per interagire dobbiamo spostare i muri dai pulch proprio è diventato ma quanto manca per finire sto gioco guardate qui allora facciamo anche delle cose segrete ecco qui camminiamo su un dirupo guardate qui attenzione giochi di prestigio mamma mia che giocatore guardate qui deve tenere l'equilibrio numeri da circo proprio mamma mia qui c'è un foglio gli dicono la messa qua si cammina si corre si passeggia vai si salgono le scale davvero pro e poi abbiamo finito il gioco no no non finisce il gioco non finirei la porta è chiusa tutte cose fracide sono pure chiuse come ti permetti guarda cip acqua niente no però se tu fossi uno scaldo ti fai finta che se uno di loro fai dipende una torcia fai finta che devi uccidere quello là questo qui che siamo noi ti allehi con loro come abbiamo visto il babbo ciao ora spaccato tutto quello là si di dietro è oh come si permette ma c'è la porta chiusa ciao e dai mamma mia ogni eh il dribbio però qua si ritorna indietro non vale togliti togliti però togliti pure tu tutti quanti togliere e ti dà nel me ma da dove è entrato quel babbo ma roba da pazzo ma da dove entrano ste persone passa da sotto muoviti però prima che muori lanciati dal tetto non muore non muore è immortale questo qua vai stai sanguinare e vabbè dai se muori non fa niente ancora di dietro sei basta vai a dormire qua c'è un altro dai guarda quanti sta entrando pure lui velocissimo mamma mia che giocatore eccolo là di dietro mamma mia che brutto ok ancora è là dietro ci sta inseguendo pure lui in velocità mamma mia che giocatori ma guarda quello l'avete visto con quella zappa ma quello è paso come si permette eh qua non finisce più sto tunnel muoviti esci corri che lui ancora è là dentro intrappolato tira di un calcio così non si alza più vai salta eh ce l'abbiamo fatto pensavo di non riuscirci oh stai calmo stai calmo e ti spacco la faccia ti spacco la faccia ah spacco tutto spacco tutto è morto come è morto a caso ma è scemo eh dai vabbè questo qua mi muore da solo tutto dal capo e dai mi impedito che non sia altro vai salta spacca tutto muovi spacca prendi a calcio muoviti prima che muori come un cretino muore ma è scemo non si capisce niente mamma mia ma che sta combinando muore da solo sto babbo mamma mia sono pazzi ma che combinano qua soccori corri 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 vai basta è finito il gioco abbiamo vinto c'è una benda no e se sanguina cosa vuoi da me sei scemo non ce n'è benda cosa vuoi basta sono oh c'è una benda bombona vanti curati le ferite non funziona non si fa curare va bene non è muori vai fare un bel montaggio per youtube magari caricale anche su facebook fai un sacco di visualizzazioni è tutta una farsa tutta una messa in scena fare visualizzazioni abbiamo capito eh vai spostiamo il carrello vai bravo salta bravo ora cade muore eh ciao va bene guarda già sta morendo ora mi compare qualche due e muore definitivamente sto imbecillo guarda guarda supera sta musica da un coso che volava a caso basta c'è una benda una benda mettiti ste cose sempre nel braccio tu muori eh mamma mia basta finito il gioco chi esce che è no st'altra dove è uscita all'oro di pasqua st'altra mongola guarda la sento non ti ho sentito vedi eh ma dove si deve andare sto gioco buo facciamo il giro di qua non so manco dove devo andare stai calma mamma mia sta la ritardo non si può passare non funziona il suo gioco ciao passo di qua prendiamo oddio salta pazza corri mamma mia che sei lento sei lentissimo mamma mia corri corri che muori se non corri non lo capisci dai guarda è morto è morto è morto guarda oddio no no dai entra entra ma non non l'aveva spaccato tutto sta pazza scattiata pazza scattiata togliti è morto guarda corri spingi sto schifo corri corri non camminare corri corri vabbè si muori va tanto piacere dai 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 che c'è quella dai salta ammazza di ritardato mentale non si meno male quella è ritardata non se ne accorta vai un'altra band ci serve ce la fai bravo bambino vai un'altra band qua sto babbo muore in continuazione sempre nel braccio ovviamente sicuro ma poi quella babba dove l'ha rimasta poi se la vede lei ecco lì sta facendo il giorno c'è il sole che è spuntato basta è finito il gioco eh ma non ce n'è cerotti cosa vuoi dalla mia vita che ti devi mettere ferito tu sei mongolo che muori sempre l'oscars chi è questo io allora io sono un bellissimo ragazzo come ti permette di insultare io mi nascondo qua dietro basta ma che cosa vuoi non ti faccio niente vai chi è ah il papa ciccione vediamo il papa ciccione noi li stiamo qua dentro se invece ti hanno ragione di farlo eh ma meglio che lo fa il papa se il papa in teoria è bravo bambino quindi non ti fa niente il papa vediamo se viene il papa aspettiamolo ciao è arrivato il papa forse si ho sentito dei rumori oh il papa ciccione è arrivato veramente ciao chi è quella è quell'altro quello è uno pazzo che lo difende ti vuoi confessare questo di prete che confessa dove è il papa ciccione non lo vedo ma perché è scappata la femmina perché non dice che non ce l'hanno ma se è un ciccione mamma mia che ho bene è una palla mamma mia guarda quant'è oddio chi è quello ah una che non c'entra niente si ma se l'hai presa con una che non c'entra eh quella là è quella vera la mia moglie è un'altra no non è vai è quella la mia moglie vai ciri quella là così poi la nostra moglie resta in vita e noi ci mandiamo guarda quant'è è un ciccione guarda quant'è oddio ma stai calmo guarda che fa la spia se fa la spia lo uccidiamo noi quindi si sceglie se farsi uccidere dal papo o da noi noi però siamo peggiori perché il papo è ciccione guarda che brutto guarda guarda ha fatto la ha fatto la la spia guarda guarda che si guarda vabbè ora muori va bene ha fatto la spia ora tu muori basta ti uccido io non lo so come non so se si può fare ma muori no ma lo devo uccidere io come ti oh io lo devo farlo come ti permetti è morto eh ma devo farlo io ma quello è vivo o no boh ma è morta ciao se ne sono andati si se ne stanno andando in velocità ecco sono andati forse aspettiamo qualche secondo si siamo sicuri che sono andati papa facciamo intanto il video per youtube qui un'altra bellissima clip ah ma è morta quella ora ve la vedremo meglio scendo dalla dal confessionatorio come si chiama sto coso vediamo qui ammiriamo i due morti prima c'è qui il primo ma cosa adesso bobo sta morendo che è questo rumore che è questa musichetta di sottofondo va bene ma ragazzi noi chiudiamo qui questo episodio ci vediamo nel prossimo episodio di audaz quindi dai flex è tutto bella ciao 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 Ciao